Antonella Fiordelisi sta spiccando il volo come conduttrice. Dopo la prima serata carica di emozioni, l'evento in programma altre due serate. Il Pitti Pizza & Friends 2024 nella città natale di Antonella Fiordelisi, Salerno. Al fianco del leggendario Pippo Pelo, Antonella sta guidando lo show con grande carisma e sicurezza, conquistando il pubblico ogni sera. L'affetto dei fan e il supporto degli amici sono stati travolgenti, tanto che Antonella ha voluto ringraziare tutti pubblicamente. Ma la sua avventura non finisce qui, questa sera ci aspetta il secondo appuntamento. Avete seguito il suo viaggio finora? Antonella Fiordelisi non è affatto nuova nel mondo della conduzione. Solo poche settimane fa, infatti, è stata la padrona di casa del Radio Stop Festival 2024, sia alla Spezia che a Cecina. E per chi non ne ha mai abbastanza, buone notizie, è prevista un'altra tappa del Radio Stop Festival che vedrà nuovamente la sua presenza a settembre. Cosa ne pensate della performance di Antonella di ieri sera? Lasciateci un commento e assicuratevi di iscrivervi al nostro canale per non perdervi le ultime novità sui vostri personaggi preferiti. Grazie per essere sempre con noi e rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.